Cari spettatori, oggi vi diamo il benvenuto a una nuova emozionante introduzione al mondo di La Promessa. La trama si sta infittendo, e ogni episodio ci tiene col fiato sospeso mentre i personaggi affrontano sfide sempre più complesse e avvincenti. Nel corso degli ultimi avvenimenti spagnoli, abbiamo visto Jimena intrappolata in una rete di menzogne, mentre il suo segreto sulla gravidanza fittizia si fa sempre più insostenibile. La madre di Jimena ha proposto soluzioni audaci, e ora si staglia un bivio cruciale nella sua vita. In questo video, esploreremo ulteriormente questa intricata vicenda e chiederemo il vostro contributo per speculare sulle possibili evoluzioni della storia. Le vostre opinioni sono fondamentali per svelare i segreti nascosti e approfondire la comprensione della trama. Quindi, preparatevi a immergervi nell'intreccio narrativo di La Promessa e a condividere i vostri pensieri nei commenti. Buona visione La trama della Promessa si sta evolvendo in modo avvincente nelle sue nuove puntate spagnole, con Jimena che sta assumendo sempre più un ruolo centrale. La sua intricata rete di menzogne, tra cui l'invenzione di una gravidanza, sta per condurla in un territorio pericoloso, dove ogni passo falso potrebbe finalmente svelare la verità nascosta dietro le sue bugie. Jimena è ormai consapevole della precarietà della sua situazione e si trova sull'orlo di un abisso di conseguenze inimmaginabili. Il prossimo sviluppo della trama ci porterà ancora più a fondo nella spirale degli inganni in cui è coinvolta, con la sua falsa gravidanza al centro del dramma. Non perderti questa emozionante evoluzione della storia. Assicurati di iscriverti e attivare le notifiche per non perdere neanche un momento di ciò che sta per accadere. Grazie per il tuo sopporto. In Italia, l'attesa per le nozze tra Manuel e Jimena è palpabile, con tutti che non vedono l'ora di celebrare questo momento speciale. Tuttavia, in Spagna, il matrimonio è già stato celebrato, ma non senza intoppi e tensioni. Dietro le quinte, si cela una complicata situazione sentimentale. Manuel è segretamente attratto da Giana e percepisce Jimena come una figura gelosa e opprimente. Le vicende spagnole sono caratterizzate da continui scontri e tensioni, che mettono a dura prova la relazione tra Manuel e Jimena. Le cose si complicano ulteriormente quando Manuel riceve un'offerta di lavoro nel settore aeronautico da un amico e inizia a considerare seriamente la possibilità di trasferirsi. Questa prospettiva genera malcontento, soprattutto da parte di Jimena, che vede nel possibile allontanamento di Manuel una minaccia alla loro relazione. Tuttavia, la storia prende una svolta sorprendente quando Jimena annuncia audacemente di essere incinta. Questa notizia sconvolge Manuel e lo costringe a rimandare il suo progetto di trasferimento e a confrontarsi con la prospettiva di diventare padre. La situazione si complica ulteriormente, portando a una serie di emozionanti sviluppi nella trama. Gli spettatori saranno tenuti sulle spine mentre la storia si evolve e si intrecciano le vite dei personaggi principali. Con il passare del tempo, la trama di questa storia si fa sempre più intricata e coinvolgente. La situazione si complica ulteriormente per Jimena, che si trova intrappolata nella sua rete di menzogne. Nel frattempo, Manuel è sempre più preoccupato per la salute di sua moglie e del nascituro, tanto da decidere di convocare un medico per monitorare attentamente la gravidanza. Manuel inizia a nutrire dubbi sulla mancata crescita evidente dell'addome di Jimena, il che lo porta a sospettare che ci sia qualcosa di sbagliato. Questa situazione mette Jimena nel panico più totale, poiché si rende conto che non può più continuare a mantenere le apparenze con scuse false. La sua angoscia cresce di giorno in giorno, mentre si avvicina inevitabilmente al momento in cui la verità verrà finalmente rivelata. L'atmosfera è carica di tensione e incertezza, e gli spettatori sono catturati dalle emozionanti evoluzioni della trama. La domanda è, come reagiranno i personaggi di fronte a questa situazione sempre più intricata? Ci sono ancora molte sorprese in serbo per loro e per il pubblico che segue la storia con interesse. Prima di continuare con il resto del video, vorremmo sentire la tua opinione. Lasciate un commento e condividete la vostra prospettiva con noi. Ora possiamo proseguire con il video e scoprire cosa accadrà a Jimena, Manuele e agli altri personaggi di questa avvincente storia. Jimena si trova sempre più intrappolata nella sua intricata rete di menzogne, e il peso della paura che la sua fittizia gravidanza possa essere presto scoperta incombe su di lei. In cerca di un confidente a cui confidare il suo terribile segreto, Jimena decide di rivolgersi a sua madre, l'unico sostegno in questa difficile situazione. In un momento di disperata sincerità, Jimena si apre alla madre e finalmente confessa la verità, non è incinta. La reazione della madre è un misto di sciocche comprensione, poiché capisce che la figlia ha tessuto questa complessa menzogna per trattenere Manuele, temendo di perderlo. Questo sconvolgente momento di rivelazione crea una profonda connessione tra madre e figlia, poiché la madre deve affrontare la difficile realtà che sua figlia è stata costretta a mentire per proteggere la sua relazione. La madre, con il suo amore e il suo sostegno, diventa un importante punto di riferimento per Jimena mentre affronta le conseguenze del suo inganno. La trama si fa sempre più coinvolgente e complessa, con le emozioni dei personaggi che si intrecciano in un intricato intreccio di bugie, verità e rivelazioni. Gli spettatori saranno sicuramente tenuti col fiato sospeso mentre la storia continua a evolversi. La madre di Jimena, nella sua ricerca disperata di una soluzione, presenta due percorsi audaci e complessi per affrontare la delicata situazione. Il primo suggerimento è quello di condividere una notte di passione con Manuel nella speranza che possa verificarsi una vera gravidanza, fornendo così una giustificazione credibile per un eventuale ritardo del parto. La seconda opzione, ancor più drastica, consiste nell'inscenare un aborto spontaneo e poi cercare sinceramente di concepire un bambino. Jimena si trova di fronte a queste due possibilità, e la sua confusione e indecisione sono evidenti. Il suo stato mentale diventa sempre più instabile, e la crescente gelosia nei confronti di Manuel contribuisce a rendere la situazione ancor più complicata. Jimena è ora intrappolata in una rete di menzogne così intricata che la pressione su di lei è insostenibile. La sua angoscia cresce giorno dopo giorno, mentre si interroga su quanto ancora potrà mantenere il suo segreto e quanto tempo rimarrà prima che la verità emerga. La situazione di Jimena pone domande cruciali. Riuscirà a mantenere il suo segreto per molto altro tempo? Qualcuno scoprirà la verità sulla sua falsa gravidanza? E se sì, come reagiranno gli altri personaggi quando la rivelazione verrà alla luce? La trama si addensa, e il futuro di Jimena è appeso a un filo sottile. Gli spettatori sono trascinati in un vortice di tensione e suspense, desiderosi di scoprire come questa storia intensa e carica di emozioni si svilupperà. Abbiamo un caloroso invito per tutti i nostri spettatori. Vi esortiamo a condividere apertamente le vostre opinioni, previsioni e pensieri nei commenti qui sotto. Siamo tutti coinvolti in questa intricata vicenda, e le vostre analisi sono fondamentali per contribuire a dipanare questo complesso intreccio narrativo. C'è tanto da discutere e da speculare su come si evolverà la trama. Le vostre intuizioni possono gettare nuova luce su aspetti nascosti della storia e aprire la strada a diverse prospettive. Sarà Jimena in grado di mantenere il suo segreto ancora a lungo? Chi scoprirà per primo la verità sulla sua falsa gravidanza? E, soprattutto, come reagiranno gli altri personaggi quando la rivelazione verrà alla luce? La vostra partecipazione è essenziale per arricchire la nostra comprensione di questa storia emozionante e per alimentare il dibattito tra gli spettatori. Non esitate a condividere i vostri pensieri, teorie e speculazioni. Siamo ansiosi di sentire cosa ne pensate e di vedere come la trama si svilupperà grazie ai vostri contributi. E con questo, siamo giunti alla fine di un altro avvincente capitolo di La Promessa. La trama si è ulteriormente complicata, e le vostre opinioni e previsioni sono state fondamentali per gettare nuova luce su questa intricata vicenda. Vi ringraziamo se siete stati parte di questa discussione appassionante e per aver condiviso i vostri pensieri nei commenti. Continuate a seguirci per scoprire come si evolverà questa storia e quali sorprese ci riserverà il prossimo episodio. E, naturalmente, non dimenticatevi di mettere mi piace, iscrivervi al canale e attivare le notifiche per non perdervi neanche un momento di La Promessa. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento con la trama sempre più intricata di questa serie. Grazie ancora per la vostra partecipazione e per aver reso questa esperienza così speciale. Buona visione a tutti e a presto!